Un premio che abbiamo sempre condiviso, apprezzato, accompagnato in questi anni come Regione Campania e credo che dopo i risultati ottenuti, al caso il premio Istio oggi è annoverato tra gli eventi più significativi a livello nazionale, oggi con maggiore convinzione ci incrociamo col premio Istio e il nuovo corso sia la Regione Campania sia il premio Istio che si apre in un mondo globale, a livello internazionale e la Regione Campania che tenta di cogliere anche queste occasioni per potersi aprire all'intero Mediterraneo e diventarne capitale. Ecco questo incrocio in uno scenario unico come quello dell'Isola Verda, l'Isola d'Istia e io credo che la Regione Campania nei prossimi anni, anche rispetto alle difficoltà economiche che vive il Paese, deve sempre più puntare sul turismo e sull'immagine di queste straordinarie bellezze che noi abbiamo.